ciao allora stasera proviamo a fare e frittà l'erba mara dato che l'esempio che chiede un la ciamma l'esempio che mi ha mostrato a mia mamma ora proviamo a spiegare a me che fa eccetera eccetera e proviamo a fare domani allora che io l'erba mara che sarà questa l'erba san pedro e per fare una frittà da 6 ovi una va 70 grammi pulito ma lo usate ma solito us va oggi us lavare una branca e questo è una questione che finisce comunque qui va l'erba mara 6 ovi firmaggio in grana bello sagratà eh in micene muiante ulasce ulasce lecce e sa bisogna tastare poi l'impasme che va bene prima di uscire e un po' di pei chi vuole perché io ho prontato se io ho prontato io ho prontato l'erba mara o la ciamma o la ciamma o la ciamma e la ciamma e la ciamma e la ciamma anche io ho finito che il divenente è proprio fin basta che sia tritata un po' no aggiunto ma cosa con gli ovi anche con il firmaggio anche con essa un po' di pei che insomma e poi andiamo a prontare l'impasto adesso proviamo metà cosa insieme allora io mi smentiamo l'ingrediente anche l'ingrediente di frittà qui va anche me spiega dai me l'hai un piasonente allora io ho il valenne e il bacio a fila insieme al resto insieme all'erba mara e al pancogliano tu l'hai allora che io ho il nostro pastello l'ho pronta da mettere un terramene facciamo una padella i valori l'oliva l'oliva uso ogni metà la pastella con anche l'olio dei propri belli cold cold e proprio scogliano cioè non è mai più che però deve essere proprio cold adesso a partenza poi hai un alquerce per 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 girare e il malquerce per quota che è nato a fare comunque adesso la guardo ma da me ne manca cosa allora offrire l'ora e ho messo a friggere a summa pronti e mettere la pastella andrante bella pianotti tanto ora allora e se smortagli la telecamera perché l'avevo con la mia goteria abbiamo voglia di pastella adesso le cheche frise bella pianotti è frittata e spiace a cercare di bruciare un po' alla buccia ma bene e poi mettiamo il querccio il suo querccio che a guardo ma fa la cosa più tanto possibile con il querccio che almeno si usa anche l'ansima quanto la giroma almeno un sporca meno possibile il querccio il querccio che capito allora adesso provo una girata perché se non c'è il querccio 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 la giroma sulla vendetta da fammi a tutti e la metto una gioccolarezza ne è un po' una frittata a gas come se non c'è la prima volta che faccio un video non è ben 5 mila volte stavolta non è ne è ne è comunque comunque guarda una trangiale eh guarda qua d'accordo adesso provo una torna a girarla perché se la raggiunga un po' meglio eh adesso è messa bene altra cera è molto mal querccio che sorprenda un po' ma comunque è quasi pronta allora il frittale questo è troppo una padella che è andata bene usare troppo una padella giusta se dovrebbe una padella inurante poi è messa a casa perciò se lei troppo una padella antiaderante con il fondo lì comunque la ne è bella perché è smeglia in me ne smeglia eh il profilo è buono adesso è più tardi e la tastuma alla prossima ciao ciao